L'episodio 7 di The Mandalorian, la serie spin-off dell'universo di Star Wars, mi è piaciuto veramente tantissimo. Ci sono state delle sequenze che mi hanno lasciato letteralmente a bocca aperta. Ricordiamo che questo episodio è il penultimo della prima stagione e alla regia è tornata Deborah Shaw, che già avevamo visto alla regia del terzo episodio. Il titolo di questo nuovo capitolo è La resa dei conti ed ecco che continuano le vicende del Mandaloriano. Che è in giro per la galassia con il suo amato Baby Yoda, fino a che non riceve un messaggio da Griff Carghal, Apollo Creed dei nostri cuori. Praticamente il nostro Carghal avverte che da quando lui se n'è andato con la preda, con Baby Yoda, la sua città è stata assediata dall'esercito imperiale guidato da un misterioso tizio, il cliente, che era proprio colui che voleva Baby Yoda, che voleva la creatura. Quindi Carghal propone di fare un patto al nostro Mandaloriano. Guarda te, torna qui, vieni ad aiutarci, noi facciamo credere al cliente che tu gli voglia dare. Baby Yoda in realtà quando gli arriviamo davanti gli spariamo, lo uccidiamo. Così almeno nella nostra città torna la tranquillità. Te te ne puoi andare con Baby Yoda e io in cambio ti faccio tornare nella Gilda. Ecco questo era un po' il patto che i due fanno. All'inizio il Mandaloriano è un po' reticente, però decide di andare a riunire un gruppo di persone che già avevamo conosciuto negli episodi precedenti, quindi ovviamente torna da Cara Dune, la mercenaria interpretata da Gina Carano, che decide subito di aiutarlo. Allo stesso tempo poi torna anche da Quilly, il personaggio che avevamo conosciuto nei primi episodi, che diceva sempre ho parlato, finiva i suoi discorsi dicendo ho parlato, l'adoro. Quella creatura lì l'adoro davvero. Ecco che riunisce tutto il gruppo. Per di più c'è anche il droide che lui Mandaloriano aveva ucciso proprio nel momento in cui aveva preso Baby Yoda, il droide che era stato proprio costruito per uccidere la creatura, cioè IG-11. Il Mandaloriano è sempre reticente, anche se Quill spiega di aver riprogrammato il droide, di averlo veramente cambiato, di avergli reinsegnato tutto. Il Mandaloriano è sempre reticente, però decide di portarlo a bordo perché Quill lo vuole al suo fianco. Quindi ecco che i nostri protagonisti si dirigono verso Navarro, la città dove si sono incontrati con Carga e il suo gruppo ed ecco che cosa accade? C'è una scena bellissima durante la notte, mentre sono fermi per riposarsi poco prima di entrare poi alle prime luci dell'alba in città e parlare con il cliente, ecco che c'è questo attacco di questi draghi. Ed era una scena inaspettata che è stata bellissima, mi ha lasciata bocca aperta. È una scena dove praticamente dal buio appare questo drago che all'inizio sembra uno solo, poi lo schermo inizia a riempirsi di questi draghi che volano intorno ai nostri protagonisti perché ovviamente sono tutti alla ricerca della creatura, del bambino, allo stesso tempo Carga viene ferito, allo stesso tempo insomma ci sono queste sparatorie, è una scena messa in scena benissimo. Deborah Shaw veramente si dimostra all'altezza dell'episodio, un episodio ricco di action, un episodio anche con tanti momenti di tensione, questo è uno di quelli. Il tutto poi è scritto da Jean Fevreau che torna e che scrive al meglio la sceneggiatura di questo bellissimo episodio. Ecco che il nostro bambino dimostra la forza, nuovamente utilizzando la forza, guarisce Carga dalle ferite riportate dopo l'attacco del drago. Così scopriremo il giorno successivo che Carga in realtà avrebbe dovuto uccidere il Mandaloriano e tutto il suo gruppo prendere il bambino e in realtà darlo al cliente. Però dopo che il bambino lo ha curato si è sentito in colpa e quindi ha deciso di allearsi veramente con il Mandaloriano, quindi uccide le due persone che erano con lui, che avrebbero dovuto uccidere insieme a lui il Mandaloriano e praticamente stipula un nuovo piano con il Mandaloriano. Il Mandaloriano decide di far tornare la creatura il bambino con cui la nave e di sbarrarsi dentro. In realtà poi il Mandaloriano con Dune, con Cara Dune, si fingerà catturato così che almeno Carga lo possa portare dal cliente, lo possa portare dal cliente con anche la scusa di avere il bambino, la creatura all'interno del suo navicellino. In realtà è vuoto, in realtà la sfera è vuota, il bambino è con Quill che sta andando verso la navicella. Ecco che quando si arriva all'incontro con il cliente si paleserà poco dopo Gideon. Gideon è il capo del cliente, praticamente è il superiore di questo cliente che voleva Baby Yoda. Si paleserà questo personaggio e avvertirà che stanno tirando in trappola il cliente. Quindi se già lì la situazione era tesa perché c'erano tutti gli stormtrooper pronti ad attaccare, se già il cliente aveva detto aprite un attimo mentre rispondo ad una telefonata, aprite la navicella di Baby Yoda che lo voglio vedere. Ecco che Gideon lo avverte e poco dopo si paleserà di persona e comincerà questa sparatoria, comincerà questo combattimento sempre messo in scena molto bene da Deborah Shaw con nel frattempo questo bellissimo montaggio alternato il nostro Quill che sta scappando verso la navicella con Baby Yoda ma purtroppo verrà raggiunto dai trooper che lo stavano inseguendo e verrà ucciso, cioè c'è quell'inquadratura di lui morto nel deserto e intanto all'uoki toki il Mandaloriano che sta chiedendo aiuto, che sta chiedendo aiuto, aiuto, dove sei? Hai portato, hai portato, sei arrivata alla navicella, dove sei? Rispondi, aiuta, cioè e praticamente si capisce che in realtà è morto, cioè c'è questo finale poi pum tagliato a metà perché forse la vera resa dei conti la scopriremo nell'episodio 8 che è l'ultimo della prima stagione che non vedo l'ora di vedere anche perché sarà diretto da Taika Waititi che è un regista che io amo. Quindi che posso dire? Episodio ricco di suspense, episodio ricco di azione, episodio anche ricco di momenti di tensione, ben gestiti, ben contestualizzati, c'è una fotografia bellissima, veramente i personaggi sono caratterizzati al meglio. Il modo, il taglio cinematografico di questa serie si fa sempre sentire, non sembra assolutamente di vedere una serie televisiva come altre, sembra veramente di vedere un film al cinema anche se un film non è, quindi è una serie di pregevole fattura, una serie di stampo cinematografico che ogni settimana mi incuriosisce sempre di più, non fa mai sì che mi annoi. Ogni volta io non vedo l'ora di vedere l'episodio successivo e a questo punto sono molto curioso di vedere l'ultimo episodio la prossima settimana. Io da quel che ho capito hanno già girato anche la seconda stagione, quindi io non vedo l'ora che possa uscire, però ovviamente so che dovremo aspettare. Deborah Shaw per me fa un ottimo lavoro, tra gli interpreti in questo episodio torna ovviamente Carl Weathers, Apollo Creed, che rivedo molto volentieri, mi ha fatto tantissimo piacere anche rivedere il droide, il droide sin dal primo episodio a me piaceva come personaggio. Mi era dispiaciuto un sacco quando viene ucciso da il Mandaloriano e è stato geniale riproporlo adesso quando ormai nessuno più ci pensava e sono anche divertenti le scene in cui Quill insegna come proprio ad un bambino a muovere i primi passi al nostro IG-11 modificato, riconfigurato. Il Mandaloriano comunque continua a non fidarsi, vedremo in futuro, nella prossima puntata, se veramente fa bene a non fidarsi oppure se sta prendendo un granchio. Poi abbiamo Gina Carano che interpreta Cara Dune e poi abbiamo Werner Herzog che interpreta il cliente e il mitico Giancarlo Esposito, grande Giancarlo Esposito, che interpreta Gideon, chi sarà Gideon? Sicuramente lo scopriremo, non penso nella prima stagione, secondo me tante cose verranno spiegate nella seconda stagione, anche sul chi sia veramente quel bambino, perché noi lo chiamiamo Baby Yoda perché questo è il termine che troviamo su internet, ma in realtà chi è? Cosa c'entra con lo Yoda che noi conoscevamo della trilogia originale? Cosa c'entra? Non può essere lui, quindi che possa essere sì della stessa specie ma che abbia qualche parentela? Chissà, sicuramente non lo spiegheranno nella prima stagione, ne sono convinto, vedremo un po'. Non ci sono per ora tanti collegamenti con la trilogia originale, prequel e sequel, è una cosa proprio assestante, cioè uno capirebbe The Mandalorian anche senza aver visto gli Star Wars, però chi lo sa che poi non si vada a unire il tutto con dei collegamenti più solidi, vedremo un po'. Detto questo ragazzi io vi saluto, vi ringrazio per avermi seguito, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete visto la puntata, se vi è piaciuta, cosa ne pensate anche voi di The Mandalorian, soprattutto cosa vi aspettate anche dalla seconda stagione, dalle future stagioni, perché anche la 3 è entrata in pre-produzione, quindi ragazzi veramente non ci libereremo facilmente di The Mandalorian, speriamo che continui ad essere sempre così ricca di spunti interessanti, di una bellissima regia, di bellissime storie, perché se la confezione sarà sempre questa, sarò veramente felice di sostenere questa serie, ma tanto tanto tanto. Ragazzi noi ci vediamo al prossimo video, per quanto riguarda The Mandalorian attendiamo venerdì prossimo su Disney+, l'uscita dell'ottavo ed ultimo episodio diretto da YTT, io vi mando un grosso bacione, fatemi sapere la vostra e come al solito fate i bravi!